Della serie non tutti i mali vengono per nuocere. L'attacco hacker subito dai sistemi informatici del Molise ha paralizzato l'attività amministrativa dell'ente e reso improbo il lavoro di molti uffici anche e soprattutto ridosso delle scadenze di fine anno. Tuttavia il problema è diventato oggettivo e di difficile soluzione anche per un semplice scambio di documenti via mail e finito sul tavolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A Palazzo Chigi il caso sottoposto dalla regione Molise è stato inserito nella decisione di fine anno. Per questo il Consiglio dei Ministri ha deciso che in seguito all'attacco dei sistemi informatici della regione non si terrà conto del periodo compreso tra il 7 dicembre di quest'anno fino al 30 gennaio del 2024, il che significa che per il computo dei diversi termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti o successivi gestiti tramite le strutture informatiche potrà slittare. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre deciso di sospendere anche in caso di inoperatività di siti internet istituzionali della medesima regione i relativi obblighi di pubblicità. In pratica tutti i pagamenti in scadenza al 30 dicembre potranno essere effettuati al 30 gennaio. Da un lato l'allungamento dei termini comporta qualche disagio ai creditori e chi attende di essere pagato, dall'altro consente alla regione di non andare in tilt e di avere il giusto tempo a disposizione per rimettersi in linea con gli atti e le determinazioni. Intanto, proprio in merito alla decisione del governo, interviene il vicepresidente della regione Andrea Di Lucente, secondo il quale, grazie al grande ed encomiabile lavoro del senatore di Forza Italia Claudio Lotito, è stato previsto nel mille proroghe un apposito coma dedicato al Molise, dichiarato. A causa dell'attacco hacker subito, ha aggiunto, nonostante abbiano lavorato anche di notte funzionari dirigenti, non avrebbero potuto ultimare tutti gli adempimenti entro il 31 dicembre. Ci siamo così rivolti al governo, chiedendo un intervento normativo che ci fornisse più tempo per lavorare nell'interesse dei cittadini. A nome della Giunta regionale ringrazio il senatore Lotito per aver accolto la nostra richiesta e aver consentito al Molise di poter operare in tranquillità, ha concluso Di Lucente.